Si complica la classifica dell'Ital Service. La sconfitta 3-0 di sabato in casa dell'Olympus Roma affossa la squadra di Colini dentro la zona play-out e chiama Tony Dandelle e compagni ad una reazione obbligata per regalarsi un Natale sereno risalendo la china nel match interno di mercoledì al Palafiera alle 20 contro i Campani della Sandro Abate. Interalaziale, ad una settimana dalla vittoria della Supercoppa, l'Ital Service patisce la voglia di rivincita dell'Olympus Roma che emerge nel secondo tempo dopo una prima frazione equilibrata e bloccata sullo 0-0. Nel secondo tempo la musica cambia e l'Ital Service, menomata dalle assenze, non riesce ad arginare la qualità dei capitolini che trovano 1-0 e 2-0 fra settimo e decimo minuto con Cutrupi. L'Ital Service prova a reagire ma sbatte sulla difesa romana prima di patire il 3-0 definitivo di Marcellinio a 5 minuti dal termine. Ora l'Ital Service deve calarsi con umiltà in una dimensione sconosciuta negli ultimi anni come quella della lotta salvezza. Ci si proverà mercoledì con un avversario non certo accomodante come la Sandro Abate, reduce dal pareggio interno con la Camedosson che la fa galleggiare fra quinto e settimo posto. Il calcio a 5 prova dunque a regalarsi un Natale più sereno. Natale di certo estremamente sorridente per l'Ital Service Loreto Basket che ha chiuso il 2022 con la dodicesima vittoria su altrettante partite giocate. I gialloblus bancano il parquet della pallacanestro Recanati 67-86 e volano sempre più in alto in classifica mantenendo ad una distanza importante tutte le inseguitrici del girone Marche Umbria di Serie C Silver. Il campionato ora andrà in vacanza, prossimo appuntamento il 7 gennaio quando al Palaflaminia arriverà Perugia.